Nuovo esposto del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il caso Bussi, da cosa nasce quest'atto onorevole Vacca? Nasce innanzitutto dal fatto che a dieci anni dalla scoperta della più grande discarica abusiva e chimica d'Europa nulla è stato fatto. Sostanzialmente il sito continua a inquinare, continua a essere lì, nessuno ha avviato procedure di bonifica, adesso si vorrebbe bonificare una parte a monte che invece è la parte meno inquinata. Oltretutto si sta procedendo all'assegnazione di un bando per la bonifica di questa parte a monte del sito più inquinato senza però aver individuato chi sono i privati, senza aver intimato i privati di bonificare, che è quello che prevede invece la legge. Noi invece chiediamo di fare chiarezza su queste ultime procedure. Il Comune si sta accollando la gestione, si sta acquisendo invece oltretutto la gestione di una parte sempre del sito inquinato. Anche questo a nostro avviso non è molto logico in considerazione del fatto che la gestione di un sito comporta degli oneri che un Comune piccolo e bussi non può avere. Insomma si sta procedendo in una direzione che non porterà alla risoluzione del problema ma a nostro avviso anzi porterà a ulteriori allungamenti, ulteriori problemi che verranno in futuro e che allungheranno ancora i tempi della bonifica. La cosa invece che andrebbe fatta prioritariamente dal Governo e da tutte le istituzioni.